E rieccoci qui con un nuovo video ragazzi, io sono Kree e noi siamo tornati su FUTUV2025 perché ho scoperto, scoperto ancora non l'ho fatto, che sono giocabili anche i giocatori della collab con Oli e Benji Adesso andiamo a vederli perché dobbiamo andare negli eventi contro com, beat the clock dovrebbe essere questo, entriamo e vediamo cosa succede perché teoricamente ci sono esatto Bisogna segnare nel minor tempo possibile con tutte le, quasi tutte le difficoltà, adesso c'è campione, mancherebbe superstar e leggenda Però ce lo facciamo andare bene, io avrei messo anche quelli, tanto ormai che cosa cambiava loro Ah, eccoli qua infatti, sto vedendo in diretta con voi appositamente per questa cosa, eh Figo, molto molto figo, fa vedere le statistiche? Mica ma, Oli fa cagare ragazzi, in classico numero 10 pure Questo c'ha 90 di potenza tiro e basta, questo perlomeno corre, non corre Mamma mia, che pipponazzo è che è questo? 81 Mediano? Beh, sono veramente dei gran pipponazzi, eh Devo dire, sono veramente dei gran pipponazzi, non pensavo che fossero così scarsi i giocatori di Oli e Benji Perlomeno della squadra di Oli Eh, quindi niente, andiamo, vabbè, questo qua è principiante, quindi, uh, però figa le animazioni Me le voglio gustare con voi, proprio per questo che sto facendo il video Ed è anche molto strano, eh, devo ammetterlo È anche molto strano Ok Cioè, ma pensa te se devo perdere la palla contro il principiante, oh Allora, subito Filtrantone ignorante in mezzo, tiro a giro 1-0, vediamoci l'animazione dell'esultanza Penso siano... Ah no, no, è proprio rifatta ragazzi Molto, molto carino Molto, molto figo, perché hanno rifatto il campo Hanno rifatto tutto il fuori Eh, oh, devo dirvi Questa cosa ci può stare Secondo me, a sto punto Hanno fatto proprio i modelli dei personaggi Hanno fatto le animazioni dei goal Hanno rifatto il campo La butto lì Potevano anche fare dei giocatori apribili, no? A sto punto, dico io A sto punto Non lo so, c'è un pacchetto Magari dei pacchetti che farmi Non per forza con le monete Io dico, do delle idee interessanti Ma con noi mi sembra che non ci pensa Le butta lì Si sono anche sprecati a fare tutta questa cosa qui Per un evento contro com Metti almeno, oltre a questo Un evento online Dove io sfido le altre persone Tutti con la stessa squadra Vabbè, se non hai voglia di fare altri giocatori di altre squadre Tutti con la stessa squadra Però con i giocatori così in versione anime Cioè, secondo me Non è una cosa molto difficile Da, a cui, a cui pensare E anche da mettere in atto Però, boh, sembra che vogliano Il massimo rendimento con il minimo sforzo Qui facciamo il secondo goal Adesso, vabbè, devi stare Mi sembra sotto il minuto Per prendere la medaglia d'oro Quindi L'ultima sfida al massimo Si può cannare Ma nemmeno Molto, molto carino però, dai Andiamo con la terza sfida E quindi questo stavo dicendo, ragazzi Semplicemente questo Secondo me Hanno perso tempo a fare questa cosa Potevano sfruttarla ancora meglio Potevano sfruttarla ancora meglio Poi, o magari lo mettono in un evento, eh Lo mettono in un evento Non so quanto dura adesso questa collab Ma Vedremo E adesso mi viene in mente E mi viene anche da dire, no? Visto che hanno fatto Perlomeno questo evento Offline Offline Contro com E si sono messi a fare tutti i modelli Dei personaggi Più la squadra Già È sfruttata abbastanza male Sta Sta collab Secondo me Perché come vi ho detto Potevano fare anche qualcosa in più Cioè ma vogliamo parlare di quella di Blue Lock Allora? Cioè quella di Blue Lock Veramente Hanno speso soldi per fare la collab Con Blue Lock E letteralmente non è rimasto Nulla di quella collab Se non un pacchetto Con dentro Inzaghi Che pure quello shoppabile Faceva cagare Cioè Che cosa è rimasto di quella collab? Assolutamente nulla Assolutamente nulla Veramente Gestita malissimo Malissimo Che più male non si può È l'unica cosa che È l'unica Praticamente è l'unica cosa Che hanno in più di FC Ste collab Perché è l'unica cosa Sono Essendo giapponesi Possono È più facile per loro Fare un contratto Fare Delle collaborazioni Con degli anime E niente Rescono a sfruttare male Anche quelle Rescono a sfruttare male Anche quelle Arriva il goal Finisce l'evento Anche a modalità Campione Ragazzi E niente Quindi Due paroline Due paroline Adesso ci spostiamo in squadra Due paroline Perché merita Merita di avere Due parole in più Questo evento Ragazzi Che vi devo dire Allora L'idea Di fare un evento Di questo tipo È molto carina È molto apprezzata Mi sono decisamente divertito Belle animazioni Belli Tutti i personaggi Proprio Si sono messi lì Per fare Ogni modello Di ogni personaggio Giocabile Con la maglietta Con la divisa Anche quella degli avversari Anche quella di Benji Il portiere Lo stop Che sentivi da fuori aria Tutte queste cose qui Quindi Sono Decisamente Contento da una parte Deluso dall'altra Perché dici Avete sprecato Tutto questo tempo Per mettervi a fare I modelli Di ogni personaggio E poi mi lasciate Solo un evento Contro com Dove una volta finito Non c'è più nulla da fare Che hai finito La collab Mettimi piuttosto Un evento Contro Contro altri player Oltre a questo Oltre a questo Tanto non ti costa nulla Ormai l'hai fatto No? Hai fatto lo stadio Hai fatto tutto Il campo Mi metti un evento qua Che non c'è E semplicemente Io mi diverto Anche online Con gli stessi giocatori Ovvio Non è La stessa cosa Magari metti Un coso solo 50 monete Mi metti Un pacchettino In cui se io Vinco online Ho un giro gratis Su quel pacchetto In cui posso trovare Oldie Benji Quelli della squadra Magari non li fai forti Li fai Come sono questi qui Ragazzi Non sono per nulla forti Cioè l'overo più alto Mi sembra sia quello di Oldie Che è 90 Quindi nel senso Tranquillamente Potrebbe essere Un personaggio Free to play Un player Un giocatore free to play Con queste statistiche Non è nulla di che Alla fine Lo puoi usare magari In qualche evento Lo usi per divertirti Lo usi in amichevole Però intanto Me lo metti giocabile Hai fatto il modello Cazzarola E mi lasci solo un evento Contro com Non lo so Cioè gestiscono proprio male La cosa Già sicuramente Gestita meglio rispetto A quella con blue lock E anche lì A questo punto Spero ne rifacciano un'altra Insieme a blue lock Magari quando La nuova stagione Sta uscendo praticamente ora In realtà O la prossima stagione O se faranno un altro film Di blue lock Una cosa di questo tipo Potrebbero rifare Un'altra collab Quello certamente Magari la gestiscono meglio Magari fanno i personaggi Anche di blue lock Come hanno fatto Quest'oggi Questo In questo evento speciale No Io lo spero ragazzi Perché Perché come vi dicevo prima È l'unica cosa Che hanno in più Rispetto a fc L'unica cosa Che possono avere in più Visto che le licenze Non ce le hanno in più Eventi non ce le hanno in più Il gameplay Lo preferisco Ma è soggettivo Alla fine Quindi non lo contiamo Come una cosa in più L'unica cosa Che possono avere in più È la collab con gli anime Tanta gente segue gli anime Gioca anche ai football Come me E la apprezza La apprezza questa cosa Ma se poi la gestisci male Tanti Non scaricheranno mai il gioco Perché C'è la collab Perché comunque Non gli viene in tasca nulla Finisce l'evento E poi che fa Basta Finisce lì A meno che non butti i soldi Su Matteus Che poi in campo Non è un anime È semplicemente Matteus Cambia solo la carta dietro Non lo so ragazzi Sono di questa idea Quindi Fatemi sapere la vostra Fatemi sapere la vostra Perché C'è sempre il pro e il contro Nelle cose No è un pro Che abbiano fatto Tutta questo Ombaradan Ma dalla stessa Parte Penso Cazzo Avete fatto tutto questo casino Solo per questo Non lo so Non lo so Ditemi la vostra nei commenti Sono curioso Dialoghiamo ragazzi Dialoghiamo Comunque questo il video Era su come farvi giocare Perché Mi avete scritto voi Nei commenti Guarda che c'è l'evento In cui giochi con I giocatori di Ollebenji Proprio ho detto Vabbè proviamolo Faccio startare la registrazione Reaction in diretta Ed effettivamente È stato carino Però Come ogni cosa C'ha i suoi pro E c'ha i suoi contro Quindi mi sono venuti Alla mente Questi pensieri Questi discorsi Da farvi Quindi voglio sapere Anche la vostra Lasciate un commento ragazzi Controllate in descrizione Perché ci sono tutti i miei social Seguitemi Entrate nel canale Gruppo Telegram E date un'occhiata Agli abbonamenti Perché sono molto vantaggiosi Quindi Ci vediamo nel prossimo video ragazzi Ciao a tutti